non scappelliamo noi si non mi da tanta fiducia no il motore è spento scusate il motore è spento adesso lo accenderò vai occhio perché era fermo il cambio lì non ha funzionato ciao ho 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 hohHH ho 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 wow vai oi adesso si ah ma hai fatto girare il sasso proprio se toglie ruote bastardo hai fatto rotolare un sasso ho dovuto aspettare che smettesse di rotolare beh è bello poi riesci anche a mollare un po' taglia accendi il motore però se no tutte le volte non sento più nessuno c'è Donatello ma gli altri non li vedo occhio alla faccia ah 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 ah